ma allora la rara è la segnala come puoi stare ma è buon giorno buoni ori dovete sapere che g nello scorso episodio Comprato L'attrezzo sbagliato Cazzo Questo è quello giusto Crediamo Anche perchè i ganzi Anche perchè i ganzi Non ci sa più sordi da quante se ne ha presi Ma ora mi esageria E' vero cazzo Devi prenderlo te mi sa Anche perchè se lo prendo io Finisce che mi impianto in un albero Quindi meglio se lo prendo tutto Aspettano anche perchè qui ci vuole dimestichezza Io vo sul posto Vediamo 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 ragazzi So seguire una striscia E perchè non è tanto Mi figlierà qui la Q No me la piglia Finchè non avete dono Ragazzi non è giocata Andate su un palo Si pronca tutto Lo vuole millimetrico E il cazzo lo vuole millimetrico Vabbè anche io Ma che gli scorsi sono Ragazzi sto passando sopra un campo di grano Oh non lo prende E' la benzina Ah Sono ritardato Io lo faccio di professione Ah no invece no Non sono ritardato Era giusto Cazzo Non mi si attacca te lo giuro Non mi si attacca cosa? Al rimorchio Ma che cazzo sono già arrivato Vaffanculo Ma questo Ma questo non è per arare E che cazzo è? Ma vaffanculo E che cos'è questo? Queste sono le lame che servono Ma dobbiamo Va agganciato alla mia tritrebbia Cioè bisogna fare un Un trebbiaception Oh aspetta vado io a piglio il corso Ma le vuoi spendere stefana Te ti ricordi qual è la strada? Ah sta passando il treno Bella per lui Bella per con i suoi trapassi I rossi Dove è il lotto di a cifra? E' accanto ai 9 A quello dove sono andata Ma perché vuoi andare là? Bisogna prendere la nostra metri trebbia Ma che cazzo è quella mucca? Ma addio cristo Raga non ci facciamo Non ci possiamo fare Ma che cazzo abbiamo fatto anche il tutorial Solo è non c'era tutto sto Ma non abbiamo fatto il tutorial Io l'ho fatto in singolo Ma non pareva tranquillo Beh grazie Andava fatto poi Magari tutto pareva più tranquillo Ma sei da un Ti vedo che arrivi Ah Beh Che quanto Quanto veloce Vai piano Vai piano Che troiaio E vedo come fai Sei in mezzo al treno Non ci voglio credere Arrivo con il trattore va Ragazzi Io 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 A volte mi rammento di essere un danno Ma anche lui si sforza Vada che sto Ci manca solo che mi incastri anche io Fra picchiala Picchiala Tira gli un picchia No Aiuto Ma che cazzo Ohioioio mi riparto Ohioioio Ohioioio Forse lo tirava via Ohioioio mi riparto Aspetta 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 Vai E' te fanali Non lo so Ci farei me stagliere Ci si fa Ma un c'ha l'aggancio questa Appunto è questo che mi chiedevo io Ma che cazzo Ah come fai a portare tre cose tutte insieme Ah non lo so Io avrei compro quella piccola Ma che c'entra quella piccola Ma che cazzo è questa C'è una costa 22.000 Vedi Ah si è vero Su su 79.000 hai ragione Ma che cazzo Non capisco Accidenta a te Questa ce l'ha l'aggancio Si vede tantissimo Scusa io compro questa Fanculo Ma quanto costa? La noleggio Per mille la noleggio Grazie Ma quella piccola piccola? Si l'ho noleggiata Non l'ho comprata Vabbè E' quella piccola Guarda C'ha un aggancio grosso quanto Gesù Ah ma è di qua? Cazzo Questo potrebbe essere un problema Ehm La potremmo Alleggiare cazzo E ora? Per me ci vuole un tipo di trattore Che abbia l'aggancio Come per questa E ora fra l'altro E si trattore Gli va da una botta E via Aspetta Collega a trezzo Vero qui e viene Aspetta 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 E ora come si fa l'aggancio Oh lo spostati Lo spostati Ce la fai Oddio Esci se Dai Aiuto La ganna Lo spostava No non ce l'ho fatto Dai raga La posso agganciare Ce la posso fare Aggancia Ma no No Ma non così Ma che è questo aggancio? Quello stesso C'ha quell'altra Vai Ce l'ho spostata bestia No Vai via Devi andare via Ma che cazzo Ce l'ha fatta? No Ce l'ha fatta No Cazzo Dai è lo stesso Non gli va bene Oh aspetta me lo vi ho trovato Eccolo Sì Tirarsi i reggi Funza Ma è questa? Cioè si può vendere Ti frego Non lo so Mi sa che ci servirà in futuro Eh ti porta via la mia sitribia vai Quella lì la lasciamo lì Cioè la prendono in Dai Dai Ho censura Sei troppo blasfemo La prendono in Che ti muovi? Sto prendendo me l'altra Oh me l'aggancia Oh l'ho presa L'ho presa Mi rimatterò come poi Mi rimatterò come poi Ma ragazzi ci si è fatta Mi raccomando taglia tutto Perché qua Davvero funziona nemmen questa Oggi No sta scommettere Mi si blocca Ok non mi si blocca Ragazzi devo stare attentissimo Perché Se mi si riblocco tutto Se mi si riblocco Che bellezza C'è fatta Cioè apparentemente Eh Che proiaio Io vò pehampi Vò pehampi Dimmi e vuoi Dimmi e vuoi Funziona Funziona Ci si è fatta ragazzi Un anno e mezza Per fare sta roba Un anno e mezza Madora Che cazzo Che bellezza Guarda ti raggiungo Ma che tempo di merda Si è messo pure a piovere Il Cristo che sta piangendo Perché Perché ci si è fatta ragazzi Segui l'indicatore Sono io l'indicatore Hoardo a testi Mi fai scensurato Ehm US Ma sai Commercial Ma non ero con la macchina fa prima no che sul campo va più solido il trattore rosso in teoria ma questo è farmi simulare questo è davvero bello è un po' di dino frappol'ultima fila e poi che potrebbe fare parecchio eaio fa lasciamo mezzo 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 capo e' un po' della sega viva viva l'annunzo l'annunzino oh maremma ora le mentore che riescono ma la estra è un problema tutta la roba che contro andava a finire eh tu la devi svuotare ma non è vero cioè a me un mi dice tipo di appiena come falla cioè tipo allunga un teara teara quando hai fatto fine e' quello l'obiettivo no? eh beh ho capito ma poi bisogna va a raccattare e gli va a dare all'omino penso presuppo un gosso ma basta fatti un po' io? si aspetta ara sicurano guarda che danno ma dai danno putto nero sta funcionando si si no quanto e' bello c'è ci sono le rotine vanno per traverse ahahahahahah no hai lasciato quattro barbabietole ma fa parking lo tornò dietro ora no 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 ma che sei sciucco pffft se saluta fava ciao amici di youtube e si va a a rayene se ha scoperto come fare ci sono già pg ancora la f pg ancora la f si dovrebbero accendere gli abbaglianti ma che cazzo capri prova prova a farci qualt'ep4 lo faccio anch'io vai faccio soltanto quattro ahahah per me si è solo disconnesso provate guarda ma perchè ma a rayene la spazio ti fonda a dormire perché non abbiamo una casa giusto se volete marco siamo dei conti di in italia si desidera i dati di guarda frasso non sopra di te basta ma se vuoi che senti ok mi sto muovendo piedi no no un po' stai la data ma è stata a raiere per me ma ultimo poco fatto ok ma è una volta se si darà un campo intero ma siamo sicuri vedrai ma scusa ma se intanto te andassi a portare gli sti cavoli si ecco ecco e come gli riporti secondo la tua la tua logica scientifica tu li presenti tu gli dici salve e questo e questi sono per la barbella e la zucchero ok sono questo modiglia questo è il ristorante ma qui fuori c'è il banco matti e sono ancora qua ho fatto giro le campi e basta guarda lì che troiaio avvano messi qui le barbebietole aspetta teoriamente va messa qui dentro avvicinaci e avvicinaci il budello ma non è qua penso è ma come questi ristoranti ma guarda io c'ho il trattore ma non ho la metri trebbia ma come no faccio il telefono la prende che lo posso fare la prendo con la macchina chiudi il video basta non mi chiedo ma che ti passa per il capo perchè sei così down prendi quel cazzo dov'è la macchina è qua ah non è questa guarda dov'è aiuto no mi sono scostrato ora si rimesce la no stavo lasciando una fila chiudi seregoli Grazie a tutti 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 Grazie a tutti